La FLE al Massimo è un podcast della Fondazione Luigi Einaudi, prodotto e condotto da Massimo Famularo. Le trovate sulle principali piattaforme di distribuzione e sul sito www.fondazioneluigieinaudi.it Assistiamo in questi giorni a uno spettacolo indecoroso. A uno estremo vediamo una classe dirigente inadeguata che si perde dietro incomprensibili schermaglie autoreferenziali, mentre all'altro vediamo un paese in frantumi che fatica ancora a comprendere quale parte del suo tessuto economico e sociale sia ancora in vita, seppur in difficoltà temporanea, e quale invece sia definitivamente perduta. Cresce a dismisura allora il divario tra una casta politica egocentrica che decide come e quando si può votare in base alle proprie convenienze e un paese ferito che non sa ancora se e come riuscirà a reagire al colpo mortale ricevuto dalla pandemia. Senza un programma concreto di riforme che riesca a fornire al settore privato gli incentivi necessari per scommettere sulla crescita, lasciando intravedere la possibilità di un percorso di ripresa che promuova maggiore efficienza nel settore pubblico, il circolo vizioso tra aspettative negative, scarsa crescita e individualismo opportunistico rischia di dare il colpo di grazia a un sistema sociale stremato. Per decenni abbiamo lasciato che il capitale fisico e umano del nostro paese si deteriorasse, favorito l'emigrazione dei talenti più capaci e degli individui con maggiore propensione al rischio imprenditoriale. Abbiamo pertanto alimentato una cultura dell'immobilismo e della conservazione, mentre l'Italia rimaneva indietro su tutte le principali sfide della modernità. La scossa causata dalla pandemia è un duro colpo, ma è anche una fondamentale occasione, forse l'ultima, per cercare di invertire il corso del declino prima che diventi irreversibile. La pressione dei mercati e dei regolatori per la riduzione del nostro debito pubblico è stata temporaneamente allentata a fronte della gravità della crisi economica che il nostro paese attraversa a causa della pandemia. L'accelerazione che l'emergenza sanitaria ha impresso a diversi trend evolutivi, dall'innovazione digitale alla transizione ecologica, costituiscono un elemento di stimolo ulteriore per dare corso alle riforme che potrebbero arrestare il declino del paese. Dunque, provando a guardare oltre le miserie dei mischili interessi politici di bottega, esiste un percorso chiaro che prevede la pragmatica accettazione delle necessità di alcune trasformazioni nel tessuto economico, sociale e istituzionale del paese. Occorre che le istituzioni del nostro paese assumano un carattere inclusivo e rendano i propri interessi allineati a tutti i cittadini e imprese disponibili a impegnarsi per creare valore per se stessi e per la collettività. Occorre una rivoluzione culturale che capovolga la cultura dell'assistenza e della dipendenza dalle lemosine di Stato e promuova una logica della intraprendenza e responsabilità individuale. Purtroppo, mentre va in scena l'eterno ritorno del gatto pardo, i media di regime mostrano di volta in volta il dito di questo o quella eventualità contingente, dall'ennesima ondata di una pandemia che governanti e amministratori hanno ben dimostrato di non riuscire a contenere, fino alle crisi di governo tese a cambiare tutto affinché nulla cambi, ma nessuno si accorge che quel dito punta verso la luna di una ripresa tanto necessaria quanto ancora desolatamente inafferrabile. Avete ascoltato la FLE al Massimo per la Fondazione Luigi Einaudi. Trovate ulteriori aggiornamenti sul sito massimofamularo.com e sull'omonimo canale YouTube. Grazie!